E dalla pianura e dalla collina noi passiamo a parlare di un altro evento perché una delegazione di 25 coreani professori universitari agricoltori biologici è stata ospite di Santa Rita Bio, Coseificio Sociale per conoscere l'agricoltura biologica e biodinamica, in particolare il parmigiano reggiano biologico, ma anche i grani antichi, i vini lambruschi bio, l'aceto balsamico tradizionale di Modena e anche i mieli bio. Quindi si sono ritrovati per degustare tre diverse stagionature di parmigiano, con abbinamento lambrusco di Sorbare e Graspa Rossa, il sommelier che li ha guidati, un grande Giorgio Mussarelli del ristorante La Noce, Montardone di Serra Mazzoni e ancora BTM Bio. Poi i mieli, quindi lo chef Giovanni Montanari ha accompagnato i coreani a incontrare le resdore di Pompeano che hanno preparato in diretta pasta sfoglia, tortellini e tortelloni con i prodotti della vacca bianca modenese, presidio slow food, ma anche latte, panna, burro, ricotta, carne, parmigiano reggiano, presso l'antica trattoria Cacciatore di Pompeano di Patrizia Guidotti. Insomma sentiamo un po' com'è andata, è andata veramente però, veramente benissimo. Sì, il rapporto con gli agricoltori biologici della Corea del Sud e la provincia di Modena data al 2005 quando ad Adelaide in Australia Modena vince contro la Corea del Sud, 170-270 con i delegati dell'IFUAM, il Movimento Internazionale dell'Agricoltura Biologica. 2008 Modena fa il 16esimo congresso mondiale agricoltura biologica, i coreani del Sud vengono a imparare questo congresso diffuso su tutto il territorio, Modena, Carpi, Vignola, Sassuolo, Guiglia, Formigine, e nel 2011 vincono il loro congresso a cui partecipiamo. Oggi di nuovo i coreani del Sud che si interessano di agricoltura biologica, che è vitale per loro perché significa rendere di nuovo potabile l'80% dell'acqua di questo grande fiume che appunto dà da bere all'80% dei sud coreani, quindi non poteva essere inquinato con chimica di sintesi di cui l'agricoltura convenzionale fa grande uso. Quindi sono qua per imparare i nostri prodotti DOP, IGP e biologici, accompagnati e coordinati da Modena Tour. Oggi siamo qua a far vedere il parmigiano reggiano, dopo la visita al caseificio di Cavecchino per vedere la trasformazione del latte biologico in parmigiano reggiano biologico e anche con solo latte della vacca bianca modenese presidio Slow Food, qua abbiamo fatto una degustazione di tre stagionature di parmigiano reggiano, 15, 24, 36 mesi, abbinato a, diamo la parola, diamo subito la parola a un grande, a mozzarella, a un grande ristoratore, sommelier, poi possiamo aggiungere qualsiasi cosa. Ho appassionato dei nostri prodotti. No, no, assolutamente, allora, una presentazione, una degustazione, un'attenzione particolare da parte dei coreani. I coreani sono stati molto educati, molto attenti, hanno preso anche appunti ed è stata la platea ideale per chi vuole spiegare brevemente anche, come abbiamo fatto oggi, i concetti della degustazione, sia del vino, in questo caso i lambruschi modenesi, anche un pignoletto abbiamo fatto assaggiare, dell'aceto balsamico tradizionale di Modena extravecchio e dei parmigiani di varie tipologie di annata. E poi anche di miele, di ottima qualità, tre tipi di miele. Anche il miele, allora, molto brevemente, una degustazione che è stata fatta con tutti i crismi, ma diciamo, per bere bene bisogna sapere anche degustare. Sì, sono partito, ho anche fatto vedere come si stappa la bottiglia, in modo corretto, perché ci sono alcune cose da tenere conto. Forse non sarà interessato troppo, però una partenza del genere, poi dopo è sfociata nella degustazione diretta, nel bicchiere adeguato, che è questo, quello che ha studiato il Consorzio di tutela dei lambruschi modenesi, che è il piede, come vedete, che ha lo stesso colore del vino. Sembra quasi che il vino arrivi fino in fondo, invece il piede è colorato, bellissimo, molto adatto per fare degustazione dei nostri lambruschi. Io ho detto che il vino va, diciamo, prima guardato, poi annusato, poi degustato, questo è un metodo tradizionale anche per fare degustazione dei cibi, e poi ho fatto vedere qual è il matrimonio giusto tra il vino e il parmigiano, e tra l'aceto e il parmigiano, dicendo che tutti sono in grado di capire se un abbinamento va bene o se non va bene. Se è un matrimonio che sa da fare. Perché è un matrimonio, magari due elementi, cioè vino e il parmigiano, sono di ottima qualità, ma non sono adatti per sposarsi insieme, quindi si possono usare in altre situazioni, ma in quella specifica magari non sono perfetti. E questo li ha interessati molto, io sono stato molto gratificato da questo interesse che hanno avuto. È un'azienda che nasce a Formigina, grazie all'aiuto di un signore che ha un'esperienza di 40 anni e ha deciso di donarci tutti i suoi consigli e di aiutarci in questa nuova avventura che è partita ormai 5 anni fa. A noi ci siamo conosciuti all'università a Parma, abbiamo fatto scienze naturali, e poi tramite il professore della mia compagna abbiamo conosciuto stradi gaetano di Formigina e da lì già avevamo la passione per la natura, poi è venuto di conseguenza. E adesso quindi queste api? Adesso speriamo di riuscire a continuare questa attività nel modo in cui la conosceva anche il nostro maestro, che l'ambiente ce lo permetta e soprattutto il nuovo modello di agricoltura, perché i problemi quali sono? Problematiche ambientali, sia un po' il cambiamento del clima, ma soprattutto i prodotti che vengono utilizzati, specialmente in agricoltura. Adesso fatichiamo proprio nelle zone, quasi si fatica di più nelle zone coltivate che nei centri urbani, dove si sta sviluppando anche una forma di agricoltura urbana. Abbiamo proprio delle problematiche con alcuni diserbanti, cose che vengono utilizzate. Voi producete un miele, vediamolo? Sì, noi produciamo un miele che da sempre, da quando abbiamo iniziato l'attività è biologico, e produciamo varie tipologie, anche perché ci spostiamo in tutto il territorio nazionale, fino alle zone più lontane arriviamo nella zona di Valle. Cioè voi andate a ricercare? Sì, la notte vengono spostati gli alveari, poi rimangono nei posti, dipende dalle fioriture, circa 20 giorni, un mese. Ad esempio facciamo il girasole nella zona delle Marche, nella zona di Senigallia, e la caccia ci spostiamo nella zona delle prealpi lombarde, zona di Varese. Più poi abbiamo un nomadismo invece nella zona più vicina, per il castagno lo facciamo nel nostro pennino, il tiglio è un miele caratteristico che viene fatto a Modena, e le altre fioriture.